Non sono ciò che vogliono descrivermi, cioè un serial killer, ma una persona che quella maledetta notte ha perso il controllo della situazione e che non avrebbe mai pensato e voluto che la ragazza morisse. È quanto scrive Riccardo Viti, arrestato per l'omicidio di Andrea Cristina Zanfir, 26 anni, trovata morte il 5 maggio a Firenze, in una lettera inviata il 19 maggio dal carcere di Solliciano alla madre della vittima, secondo quanto anticipato da quarto grado la trasmissione di Rete4, che stasera renderà nota integralmente la lettera. Mi rivolgo direttamente a lei perché è la mamma di Andrea Cristina, scrive Viti. Con questa lettera vorrei farle sapere quanto sono consternato per la perdita che le ho causato. Non ho mai ucciso nessuno perché rispetto la vita di tutte le persone e questo rende ancora più pesante la mia pena, prosegue l'uomo, che spiega poi non voglio più aggiungere nulla perché capisco che le risulterà difficile leggere questa lettera. Era doveroso per me spiegarle chi è la persona che ha ucciso sua figlia e l'unico modo era quello di dirle la verità e cioè che mai avrei pensato potesse accadere ciò che è accaduto. In una nota intitolata L'esorcismo ipocrita della mostrificazione firmato da Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere di Solliciano dove Viti è recluso, e da Beppe Battaglia, presidente dell'associazione Liberarsi, si legge. Con l'arresto di Riccardo Viti, accusato di aver siliziato e ucciso Andrea Cristina Zanfir, è partito ad opera de media il repertorio penoso della mostrificazione, spintosi fino al coinvolgimento della madre di Riccardo, costretta a pronunciarsi in sintonia con il coro. Un coro mediatico che è di per sé un mandato sociale che allude apertamente all'eliminazione di questa persona.